In provincia di Nuoro a dicembre si è verificato un incremento del 69% nelle consegne di pacchi e-commerce effettuati da poste italiane rispetto allo stesso periodo del 2019. La provincia di Nuoro si colloca al primo posto in Sardegna, seguita da quella di Oristano, più 36%, e da quella di Sassari, più 29%. È quanto sottolinea una nota a poste italiane che ha analizzato i dati sull'andamento dell'e-commerce nel mese scorso, che ha fatto registrare in tutta Italia un vero e proprio boom che l'emergenza pandemica spiega solo in parte. A livello nazionale, nello stesso periodo, a poste italiane ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all'e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019, più 56%. Numeri da record prosegue la nota che confermano lo sforzo logistico messo in atto dall'azienda in un mese di picco di consegne alla strategia di poste italiane per rafforzare la leadership nei servizi per l'e-commerce. Sotto questo profilo, l'amministratore delegato di poste italiane, Matteo Delfante, ha ricordato come si è entrato da poco in funzione un centro di smistamento a Roma e nel primo trimestre del 2021 sarà operativo un hub a Milano. Inoltre, poste italiane ha concluso accordi con due start-up innovative, Milkman, piattaforma logistica specializzata per le consegne personalizzate, e col vettore digitale Sender, start-up tedesca, tra le più innovative nel settore, in grado di offrire soluzioni efficaci nel trasporto a lungo raggio a pieno carico, conclude la nota.